Edder, Mech, Pallister. Il fatto crimine nel 2018, le vittime, una donna di 46 anni e sua figlia di 19, hanno perso la vita in circostanze terribili. Durante una discussione tra Sodano e Desiree Amato, con la quale aveva da poco concluso la relazione, le due donne sono intervenute in difesa della giovane. Momento in cui il finanziere ha estratto l'arma e ha sparato, Desiree Amato, 22 anni, è riuscita miracolosamente a salvarsi rifugiandosi in bagno, dove è rimasta nascosta fino all'arrivo delle forze dell'ordine, che l'hanno trovata in stato di profondo shock, l'autore del duplice omicidio. Dopo il tragico gesto, è stato rintracciato e si è costituito nelle vicinanze dell'abitazione di un parente a Latina, ammettendo la propria responsabilità. Questo episodio si aggiunge alla dolorosa lista di femminicidi che hanno segnato l'anno 2024. Evidenziando ancora una volta la drammatica urgenza di affrontare e prevenire la violenza contro le donne, la comunità di Cisterna di Latina si ritrova ora a fare i conti con il lutto e il dolore, cercando di trovare forza e solidarietà in un momento di così grande tragedia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale! Edelmetallica!